centralino antigender per segnalare un comportamento anomalo in un adulto digitare 1 per apparizioni generiche del gender digitare 2 per manifestazioni scolastiche del gender digitare 3 salve volevo segnalare un comportamento anomalo il mio figlio paolo di 9 anni perché ieri sera ha visto lo spettacolo peter panni guarda sotto le gonne e stamattina mentre lo lasciava a scuola ho visto che si è messo a parlare con mimmo il ragazzino quello un po effeminato ci ha parlato di solito lo calcia ci sono anche certe mattine in cui lo sputa ma che valori stiamo dando a questi ragazzi a questi bambini se volete preservare il bullismo sui diversi chiamate il centralino antigender grazie